Vogliamo cercare di un attimo perimetrare tutto questo? Allora, noi stiamo parlando di un tema fondamentale all'interno delle democrazie moderne, cioè che è il tema della distorsione della realtà. La distorsione della realtà passa attraverso, chiamiamo le cose con i nomi e cognomi. Prima parlavamo di Silvio Berlusconi, l'abbiamo fatto con Peter, che è stato estremamente preciso in alcuni dettagli. Abbiamo parlato a lungo, senza nominarla, Barbara D'Urso, i programmi di Barbara D'Urso, dove questa vicenda a cui fai rifornimento è cresciuta nel tempo. Allora, quando si parla di distorsione della realtà, si intende il creare il contesto e la situazione ideale, perché coloro che sono ospiti possano rappresentare al pubblico una realtà che è la loro versione della realtà. Lo abbiamo visto, è un sistema, l'abbiamo visto con gli etologi, lo abbiamo visto con la complicità con i politici, lo abbiamo visto con l'utilizzo di vicende private di personaggi pubblici, ora lo vediamo con la difesa esplicita di personaggi preoccupanti come questi. Basta! Non possiamo accettare distorsione della realtà. L'informazione, la democrazia passa attraverso la completezza, la completezza del rispetto di tutti. Grazie!